Non trova però il canestro, Recinciarini in possesso del pallone, questa volta liberissimo dalla difesa trentina, anche questa può essere una chiave per cercare di limitare la bravura nel pick and roll del giocatore Reggiano. Arriva però un'altra palla persa per Flaccadori, Anim si lancia in contropiede, il resto è tiro dal centro dell'area, va poi lui stesso a recuperare il rimbalzo offensivo sul proprio errore, poi però arriva un'altra palla persa per Trento, corre veloce in contropiede in doppia cifra di media quest'anno, a cui aggiunge anche quattro rimbalzi, poi poco più. L'errore da parte di Ryuverse, arriva però il rimbalzo da parte di Burianaze, gioco 23, una Hotels Reggio Emilia, 13 per la Dolomiti Energia, secondo periodo ancora alta la difesa da parte di Conti su Cinciarini, questa volta è bravissimo però il numero 20 a trovare il roll dei propri compagni, non ha dovuto far altro che appoggiare. Marcato in questo caso da Flaccadori, Burianaze ribalta al lato ancora per Cinciarini, non arriva il mismatch di Burianaze con Spagnolo ma che mette il pallone nelle mani, manco a dirlo, di Andrea Cinciarini, nuovamente Hopkins sotto canestro, marcato da Crawford, si prende un bel tiro in allontanamento, di Graziulis, arresto e tiro per il numero 12, rimbalzo sul proprio errore di Udom che poi mette il pallone nelle mani di Lockett ma arriva la stoppata. Un bottino abbastanza importante per Reggio mentre andiamo arriva con Graziulis, arriva però nei tirovers, bravissimo nel tempismo a stoppare il tentativo di tiro di Flaccadori e dall'altra accelera i tempi della transizione Olisevic. Ci metti a riferto da Spagnolo e Flaccadori, due giocatori che certamente hanno il maggior numero di punti nelle mani per la squadra di Molina e questa sera stanno facendo molta molta fatica. Il tiro da tre del fratello di Luca e allora il pallone sotto per Murianazze che mette anche questa. 17 per lui, siamo andati a rivedere il suo canestro in transizione ma... Reggio Emilia intanto va a servire Michele Vitali nell'angolo! È buona anche questa! Attualmente in doppia cifra per Trento ci sono Crawford, Atkins e Graziulis. Risponde l'Una Hotels Reggio Emilia con Murianazze da tre!